in particolare modo è il luogo geometrico sembra un esercizio banale tutto sommato non è così banale ci viene detto che in insieme di punti z partenze tale che la parte reale di questo numero cioè di 1 fratto z uguale a 1 ci chiede cosa rappresenta a livello geometrico cioè come è rappresentata la soluzione di questa espressione prima cosa, come ben sapete noi dobbiamo scrivere z in componenti quindi lo scriviamo subito uguale a 1 per poter isolare la parte reale sapete che al denominatore non dovete togliere la i cioè dobbiamo eliminare la parte complessa fondamentalmente quindi andiamo a razionalizzare moltiplicando numeratore e denominatore per il reciproco sostanzialmente per il complesso coniugato alla fine per i di y per sia numeratore insomma praticamente razionalizziamo detto molto banalmente quindi al numeratore resta ovviamente x meno i di y scrivo veramente male scusate e al denominatore vado a scrivere primo componente al quadrato meno meno secondo componente al quadrato ok quindi la parte reale di questa cosa di questa espressione è uguale a 1 allora la seconda componente al quadrato adesso vediamo quanto vale allora reale di x meno i di y fratto x quadro meno meno i al quadrato sapete che fa meno 1 quindi più y quadro uguale a 1 ok perfetto adesso la parte reale potete isolarla sapete benissimo che è questa parte reale quindi avete che x fratto x quadro più y quadro uguale a 1 allora minimo comune multiplo attenzione però nel farlo perché adesso vi spiegherò perché adesso la cosa da fare come ben sapete è quella di eliminare il denominatore no? siamo in un'equazione sì però bisogna sempre imporre ricordatevi che sia diverso da 0 quindi la soluzione sarà valida a meno del punto 0 0 perché non deve annullarsi il denominatore non potete eliminarlo altrimenti se non siete sicuri ok a questo punto l'espressione che vi resta è questa e che cos'è? vabbè è una circonferenza è una circonferenza è una circonferenza attenzione ovvio non è una circonferenza vedete che avete due termini a quadrato uguali fra loro poi avete pure questo termine allora è una circonferenza andiamo a vedere ecco sì è una circonferenza però attenzione quindi perché? perché come accade spesso questo punto da escludere vedrete che apparterà la circonferenza verifichiamolo vediamo 0 più 0 meno 0 uguale a 0 che è verificata verificata quindi siccome questo punto partiene alla circonferenza che è soluzione di conseguenza dovremo escluderlo quindi la soluzione sarà questa circonferenza ok quindi la soluzione è una circonferenza meno il punto 0 0 in quanto va escluso perché se no non permetterebbe di fare la semplificazione che come avete ben visto in questa posizione dell'esercizio ok quindi la soluzione è un punto meno una circonferenza andiamo a vedere se ci è un azzeccato sì esattamente quindi la soluzione di questo esercizio è la soluzione A grazie a tutti